Dare il massimo, non mollare di un centimetro e sorridere con gusto per una stagione importante e degna di nota che ha portato il Nardò a chiudere il campionato di Serie D Girone H al terzo posto. E adesso, domenica, il Giovanni Paolo II, che sarà quasi sicuramente sold out, arriva il Barletta per la semifinale play-off. Bisogna vincere e non commettere passi falsi. E questo lo sanno bene il volenteroso capitano Giacomo Mengoli, bandiera neretina, e l'attaccante brasiliano Lucas D'Ambros. Che campionato è stato questo? È stato un campionato straordinario perché comunque siamo arrivati terzi in un campionato più difficile d'Italia, però ora arriva il bello, arriva una semifinale contro una squadra forte, ci stiamo preparando al meglio e speriamo di arrivare domenica prossima a giovarci la finale. Quanto si sente orgoglioso di essere il capitano di questa squadra? Ovviamente tanto perché comunque sono in questa società da quattro anni e vestire questa maglia, la fascia di capitano, comunque è per me un onore. Speriamo appunto di finire al meglio. Il mister ha appena detto che il segreto della vostra squadra è il lavoro e il gruppo. È d'accordo con lui? Sì, ovviamente. È un gruppo straordinario, comunque il gruppo fa tanto in una stagione. Poi lavoriamo bene da fine luglio, da quando abbiamo iniziato, da quando abbiamo iniziato il ritiro. Sempre lavorato al massimo. Dice tanto e fa tanto in una stagione. Domenico arriva il Barletta, fischio d'inizio ore 16, semifinali e playoff. Quali sono le emozioni di Giacomo? E vabbè, ci sono tante emozioni. È una partita che si prepara da sola perché comunque ci sarà tanto pubblico, tanti tifosi, sia il Barletta che il Nardò, quindi sarà un bel palcoscenico. Ripeto, ci stiamo preparando al meglio. Sono partite dove tutti vogliamo giocare e speriamo di vincere. Un messaggio ai tifosi e alla squadra, ai tuoi compagni? Un messaggio ai tifosi e alla piazza di Nardò, ma non c'è bisogno perché comunque ci hanno sempre seguito, ci hanno sempre una grossa mano e speriamo di vedere appunto uno stadio pieno. E alla squadra non c'è bisogno di dare consigli a niente perché comunque ho a che fare con degli uomini, soprattutto professionisti, e quindi stiamo lavorando bene e siamo pronti per Domenico. Qual è il sogno nel cassetto di Giacomo? Il sogno nel cassetto, penso, è un sogno che abbiamo tutti, è quello di cercare di vincere i play-off perché poi non si sa mai cosa può succedere alla fine. In puntati piedi ti sei conquistato un posto importante in questa squadra. Ti senti un leader? Sì, sì, sicuramente sì, dovrei dire sì, sì. Quanto sei soddisfatto da 1 a 10 della tua stagione e di quella della squadra? Sono molto soddisfatto di entrambi perché abbiamo conquistato come gruppo il primo obiettivo e siamo riusciti anche ad andare oltre arrivando ai play-off. Certamente c'è qualche rammarico che rimane, però non ci dobbiamo più pensare a quello. Dobbiamo solo puntare ora a questo obiettivo nuovo che sarà vincere i play-off. È personale, diciamo che sono abbastanza soddisfatto. Domenico arriva il Barletta, un tuo gol per vincere quella partita, ci speri, una partita molto difficile contro un avversario che ha fatto molto bene? Un avversario molto difficile, un partito molto importante, la vittoria. Se devo scegliere una cosa la vittoria, il gol sicuramente è importante, però la vittoria non importa di chi, il gol, però vittoria. Dai tifosi cosa ti aspetti? Si stanno mobilitando per sostenervi al massimo? Sì, sì, qua abbiamo un gruppo di tifosi fantastico, ci ha dato tanto tutto l'anno e sicuramente io mi aspetto il pieno dell'istadio e molta gente, aspetto il sostegno come hanno sempre fatto. L'ho chiesto anche al mister, lo chiedo anche a lei, qual è il suo sogno nel cassetto? Allora, il sogno è quello che penso tutto il gruppo ha, vincere i play-off, quello è il sogno sicuramente.